Il polo universitario della Federico II di San Giovanni a Teduccio si arricchisce di una nuova impresa internazionale. AXA Matrix Risk Consultant, società di ingegneria del gruppo assicurativo AXA, ha inaugurato il nuovo ufficio di ricerca e sviluppo nella città di Napoli, un'azienda che nelle sue specifiche possiede le conoscenze circa la didattica e le applicazioni sul rischio delle catastrofi naturali. Ascoltiamo il rettore Gaetano Manfredi. L'apertura di questo centro della Matrix AXA è un altro tassello importante della costruzione di questo polo tecnologico di San Giovanni, perché è una realtà mondiale importantissima nel campo assicurativo e perché poi tratta un tema, quello della valutazione dei rischi e soprattutto dei rischi naturali, che fatta a Napoli, dove ci sono grandi competenze ma anche grandi problemi, rappresenta un punto interessante e importante anche di sviluppo e di impatto sul territorio. Ad inaugurare la nuova struttura, Laura M. Barbagli, CEO di AXA Matrix Worldwide. Io sono molto contento di essere qui per oggi, inaugurazione del Research and Development Ufficio in tre parti, come ha detto, Università, Industrie, Energy Consulting. Presente il CEO della divisione italiana di AXA Matrix, Marcello Forte. Il progetto, nato nel 2009 a seguito del terremoto dell'Aquila, ha portato alla creazione prima di una borsa di studio, un ottorato di ricerca presso un ragazzo del Federico II, che è stato poi assunto da AXA Matrix qualche anno fa al termine del suo dottorato e diventato adesso a capo dell'unità di ricerca internazionale per quanto riguarda l'airquake e gli tsunami.